Non saranno calci e pugni in piena aula di Montecitorio a un nostro parlamentare che ci fermeranno. La nostra reazione per un'Italia più democratica a difesa della Costituzione contro l'autonomia differenziata Spacchitalia, contro questo premerato che vuole insediare una donna sola al comando per cinque anni o un uomo solo al comando, la nostra risposta è forte, è un'Italia, è un no passeranno.